Di recente è tornato dal Canada, nello specifico dalla cittadina di Niagara Falls, dove nell'Avalon Theatre ha tenuto un applauditissimo concerto live davanti ad un fiume di estimatori connazionali. Ed ora Sal Da Vinci, cantautore e attore napoletano, si prepara per lo spettacolo Eccosi che gira il mondo in festa all'Arena Flegrea di Fuorigrotta. L'appuntamento è per domani, 27 luglio, dove Da Vinci cerca il Beast, il sold out del 2009, dove incantò gli spettatori nella stessa sede. È la seconda volta che ritorno all'Arena Flegrea, sono abbastanza emozionato e allo stesso tempo felice, perché ritrovo la mia gente, il mio pubblico, con uno spettacolo completamente nuovo. E' così che giro il mondo, come infatti Reduce dal Canada, ritorno nella mia città, questa città che mi ha regalato più di quello che ho donato a lei, questa città che in qualche modo ognuno di noi che la vive, la vive odio e amore allo stesso tempo. L'amore che credo è l'unico motore che tiene, come dire, ognuno di noi saldato a quei principi. L'odio è perché vorresti che questa città fosse in qualche modo alla pari di tante città importanti nel mondo. Lo è dal punto di vista culturale, lo è dal punto di vista paesaggistico, lo è perché è unica. Dobbiamo migliorare noi tutti insieme, la comunità deve fare di più e in questo momento di crisi l'unica cosa che non cadrà mai in crisi è la voglia di emozionarci. Ecco perché questa grande festa che arriva la voglio condividere con tutti. la disciplinare in primo grado.